Abbiamo con noi il difensore dell'SC Scenaria, Dario Dei Esposti. Dario, un giocatore di esperienza che oggi con il suo debutto ha dato un contributo molto importante alla squadra, sia dal punto di vista morale che tecnico, nonché autore del secondo bellissimo gol. Cosa ne pensi e come hai visto la partita? Innanzitutto buonasera a tutti, partita abbastanza difficile. Giocavamo contro una squadra che a inizio del campionato era una delle pretendenti alla vittoria del campionato. Noi abbiamo fatto la nostra partita, ci siamo difesi ordinati. In primo tempo abbiamo avuto tre o quattro occasioni per andare sul 3-1 e il 4-1, non l'abbiamo sfruttata. E purtroppo poi il calcio è così. Alla fine, l'ultimo secondo, abbiamo pareggiato. Va bene così, abbiamo giocato con una buona intensità, una buona grinta e speriamo che sia la svolta da qui a fine campionato. Vorrei sapere, personalmente, secondo te, dove deve ancora migliorare la squadra, anche in vista di una trasferta difficile come quella di domenica a Orvieto? Manca un pochino di esperienza. E quindi anche gli ultimi minuti, l'ultimo quarto d'ora, dove vincevamo 2-1, cercare di mantenere il più possibile il possesso palla, prendere qualche fallo intelligente e non fare soprattutto qualche fallo, perché gli ultimi dieci minuti hanno battuto sei, sette punizioni mettendola in aria. e questo, poi per il resto ogni partita ha la sua storia. Ok, ti faccio un grosso in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie.